Cosa c'è? Ancora gioia! Ah, che bello! Questo è l'orologio, diciamo, che ha fatto la Montegra Bellissimo, mi piace molto, sai, tutto il contorno così perché sembra il dashboard delle mie macchine di Formula 1 che usavo ai miei tempi perché adesso è tutto digitale ma i miei tempi erano così. Mi piace molto anche questo richiamo dei guanti di pilota con i buchi che è molto utilizzato sulle macchine di epoca adesso. C'è la mia firma dietro. Adesso me lo metto. Bello, bellissimo. Grazie Giuseppe, grazie Montegrava. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.